Oggi particolarizziamo a regime il modello della macchina sincrona a polisalienti, l'avete visto sia nella versione a polirisci che nella versione a polisalienti e nella configurazione dinamica, cioè nella configurazione per qualunque tipo di regime. A questo punto, come al solito, come abbiamo fatto anche per la macchina polirisci, la particolarizziamo per regime stazionale sincrona. Per far questo vi do anche un'altra versione del modello che però si aggancia a quella che abbiamo visto in termini di flussi. Questa versione si aggancia a quella in termini di correnti se sostituiamo il legame flusso-correnti all'interno della macchina, perché così ci risulta anche mnemonicamente un po' più facile da ricordare. Cioè, se io il modello della macchina la scrivo come v è uguale a r per i più dpsi su dp più jp omega r psi, ho scritto il modello della macchina sincrona in termini, non di correnti, non compaiono più le correnti, mi preoccupano i flussi. Se al flusso psi dico che è uguale a un psi d più jp, cioè parte reale più parte immaginaria, e si condita, dico che è tutto quello che sta sull'asse diretto, cioè il flusso di asse diretto della corrente di stato ore, più, diciamo, abbiamo detto phi con E, abbiamo chiamato il flusso del relativo all'eccitazione, che può essere sostenuto dai magneti o dalla l'eccitazione arteriana, e psi con Q è molto semplicemente L con Q P. Questo modello si completa poi con l'equazione del momento della coppia elettromagnetica che mi dice che t è uguale a tre mezzi pi per la parte immaginaria, se la vogliamo scrivere sempre in termini di flusso, psi coniugato per P. Iniziamo prima di tutto a vedere, questo è il modello completo, diciamo, si completa con l'equazione di carico che mi dice che il momento della coppia elettromagnetica meno il momento della coppia resistente è uguale a J d'omega con M su Dt, più eventualmente a una causa smorzante moltiplicata omega con M. Questo è il modello completo della macchina. Si riallaccia a quello che abbiamo scritto in termini di correnti, quando vado a sostituire i flussi, diciamo, otteniamo, lo separiamo delle due componenti Vd e Vq, V con D e V con Q, R i con D, R i con Q, più D'omega con R i con Q, più D'omega con R i con Q, meno P'omega con R i con Q, si è bene? Sempre con i con D e V con Q, danni da L con D, I con D, più I con E e L con Q, I con Q, con il momento della coppia elettromagnetica che potremmo scrivere tre mezzi P, ci prendiamo solo la parte immaginaria di psicoeducato per I, cioè parte immaginaria di psi con D meno J con Q per la corrente I, che sarebbe I con D più J con Q. Questa quantità qui la posso scrivere anche come tre mezzi P. Allora, la parte immaginaria sarà, scriviamocela tutta quanta perché molto spesso sui testi, perché molto spesso sui testi, sui testi si trova in tutte queste maniere, quindi psi con D per I con Q più, scusate di meno, psi con Q I con D. Va bene? Altro modo in cui si può scrivere è esplicito i legami flusso corrente. V con D e V con Q. Allora, R I con D, R I con Q più L con D dei con D di T. Poi, la derivata di F con E, se rimane costante la corrente di eccitazione, questa quantità è costante, quindi questa derivata non c'è, ok? Sto mettendo questo qui, meno P omega con R L con Q I con Q e dall'altro lato più L con Q D I con Q su D P più P omega con R FI con E, ok? Questa qua ha il ruolo di tensione in tutta I con Z, minuscolo. A questo punto i legami li abbiamo già esplicitati, li abbiamo già puntati nell'equazione di stasolo, di stasolo è minimale soltanto T uguale a tre e mezzi P per psi con D per I con Q, meno psi con Q per I con D, e questa non fa altro che L con D meno L con Q per I con D, I con Q più L, dunque psi con Q per I con D, questo è, abbiamo ritrovato, il modello che abbiamo scritto, quindi scriverlo in questa maniera qua in termini di relazioni di flusso correnti o in questa maniera qua in termini di flussi, diciamo, è equivalente perché siamo andati da un lato all'altro, lo possiamo andare dall'altro, va bene? Questo è il modello della macchina sincrona, in questa configurazione è, diciamo, in configurazione da un po' bene? Ci siete? Domande? Abbiamo capito che abbiamo fatto? L'abbiamo scritto semplicemente, si può scrivere in varie maniere, a seconda di quello che uno ci vuole fare, tipo voglio fare un controllo di corrente, un controllo sul flusso, un osservatore che mi veda il flusso, quanto vale e così via, io ve lo scrivo nella maniera più opportuna e nel riferimento più opportuno, abbiamo visto che si può scrivere anche nel riferimento di statore, come allora questo. Bene, poi, diciamo, una delle cose che diremo oggi andrà un po' ad esemplificare, diciamo, il cambio di riferimento del modello e vedremo cosa succede, in alcuni casi conviene riferirsi allo statore perché è un po' più conveniente riferirlo allo statore. Bene? Ok, allora, a questo punto partiamo dalla scrittura di uno di questi modelli, per esempio questo, e ce l'andiamo a particolarizzare per regime stazionario e sinusoidale. Ma la cosa ci viene abbastanza semplice, perché c'è sempre, in regime stazionario e sinusoidale, c'è sempre quella relazione che abbiamo trovato tra il vettore di spazio e il fasore delle grandezze tensioni correnti e antiflusse. nel senso che abbiamo visto che v riferito allo statore è uguale a radica 2 per il valore efficace di v per elevato alla g omega t per la fase di v rispetto al riferimento. quindi se volete è uguale a radica 2 per il fasore di v per elevato alla g omega t. Ok? Questo abbiamo visto che succede a regime con la grandezza tensione. La stessa cosa per quanto riguarda la grandezza corrente, se la riferisco allo statore, ho radica 2 per la corrente fasore per elevato alla g omega t. Questo l'abbiamo visto e l'abbiamo già usato. Per quanto riguarda la possibilità di riferire queste stesse grandezze al rotore, v riferita al rotore e, come al solito, v riferita allo statore per elevato alla meno g omega t. Quindi, è proprio il fasore della tensione u moltiplicato per radica 2. E la i riferita al rotore è sempre i riferita allo statore per elevato alla meno g omega t, che è radica 2 per il fasore. A questo punto, nelle equazioni della macchina riferite nel riferimento di rotore, prendiamo e andiamo a fare quelle sostituzioni e vediamo che cosa ci troviamo. Va bene? Ci siete? Ok. Questo da luogo ha un modello che poi è interpretabile facilmente in termini di vettori di spazio e di fasori, di diagrammi fasoriali, anche, diciamo, grafici, in maniera tale potrebbe trattare delle conclusioni. Allora, a questo punto andiamo a sostituire nelle relazioni di dentro. Ovviamente, questo radica 2 v lo posso dividere, è un fasore, lo posso dividere in parte reale e immaginaria, quindi viene radica 2 per v reale più j v immaginario, ossia v con d più j v con q, dove v con d e v con q sono le due proiezioni, quindi, un gas diretto e quadratura, ossia reale e immaginario visto dal rotore, della tensione di statore. Ok? La stessa cosa la posso fare per la corrente, viene radica 2 per i con d più j i con q. Ok? Questa è una cosa che non era stato tanto necessario farla quando abbiamo fatto i fasori, il modello in termini di fasori, della macchina sindrome a trafello costante. Lì non c'era necessario di farlo, per un motivo che poi, diciamo, vi sarà più chiaro adesso. Allora, quindi abbiamo v con d e v con q. V con d è uguale ad r per i con d, i radical 2, è inutile che ci rimento perché tanto vanno via da tutte le parti, v con d è uguale ad r per i con d, più l con d, scusatemi, l con d dei con d su dt, questo è zero perché la derivata di un fasore, che è un numero costante nel tempo, è proprio lì, a dipendenza dal tempo che io riporto via, è zero. Quindi, diciamo, a regime stazionale e stupesoriale, queste derivate, diciamo, non me le trovo più perché i fasori sono costanti. che il riferimento lo toglie. Quindi, r e con d, e qua ci abbiamo r qq, meno p omega con r, l l con q, per i con q, e qua invece abbiamo più p omega con r, l con d, per i con d, più, diciamo, e con d, la quantità che viene lì, la chiamiamo direttamente e con zero, grande, che è il valore efficace della tensione in 2. Per quanto riguarda la coppia, per quanto riguarda la coppia, ci dobbiamo stare un attimo attenti con la radica 2 sotto, perché questa volta ce li dobbiamo mettere, perché non vanno via direttamente, ma, avendo che d è uguale a 3 mezzi, p, per l con d, meno l con q, per i con d con q, quindi per 2, i con d, i con q, più, fi con e, per i con q, e anche qua c'è un 2, perché viene la radica 2 di questo, e la radica 2 di quest'altro. Questi due, vanno via, con i due al denominatore, e quindi rimane, 3, fi, per l con d, meno l con q, per i con d, i con q, più, fi con e, ok? Fi con e, per i con q. Va bene? Ci siete? ok. Allora, iniziamo a vedere, queste due relazioni, e poi dopo ci scriviamo, la relazione, che ci dà la coppia, in termini non più di correnti, ma di tensione in pressa, qualora avessimo una tensione in pressa. Ok? Allora, iniziamo a ragionare, sulla equazione di equilibrio elettrico, delle tensioni. e ci costruiamo il diagramma fasoriale in termini delle componenti dei vettori sugli assi diretto e l'asse quadratura. Ok? Quindi, immaginiamo di avere un sistema di riferimento centrato sul rotore, con asse diretto e asse quadratura, dove l'asse diretto è l'asse del rotore, poi, diciamo, ci sono, questo se abbiamo il rotore amperiano, ok? L'asse diretto è l'asse del rotore amperiano, poi nel caso che abbiamo i magneti, ci sono vari modi per disporre questo asse diretto, se uno lo vuole disporre sull'asse del rotore, cioè sull'asse del magnete, ok? Nella direzione di magnetizzazione del magnete, oppure c'è qualcuno che lo mette considerando invece la salienza, cioè lo mette sull'A nel punto in cui l'inultanza è più elevata, ossia l'inultanza è più bassa, o, diciamo, lo centra sul lato dell'inultanza più bassa, ossia dell'inultanza più elevata. a seconda delle preferenze, l'asse D, diciamo, si può centrare in vari magneti, d'accordo? Però, non ci complichiamo la vita, per il momento noi abbiamo un'eccitazione amperiana e centriamo l'asse diretto sull'asse magnetico dell'eccitazione amperiana. Se abbiamo un magnete, lo centriamo nella direzione di magnetizzazione del magnete, va bene? Ok, fatto questo, che avrò sull'asse diretto, o sull'asse quadratura, ci finisce sicuramente la E con zero, ok? Sta sull'asse quadratura, poi, sull'asse, poi avremo una corrente, ok? Avremo una corrente I, e questa corrente I sarà scomponibile nelle due componenti di asse diretto e di asse quadratura. Noi questo sappiamo, ok? Da questo possiamo far partire il nostro diagramma fasoriale. Allora, iniziamo a vedere tutto ciò che sta sull'asse quadratura. Ok, troviamo la E con zero, troviamo la R I con Q, troviamo la P omega R, L con D, I con D, cioè, notate che abbiamo levato da mezzo, trovandoci sul rotore, quando abbiamo scritto le equazioni in termini di regime stazionale di sigla solidale, sono scomparse le trasformatoriche e rimangono soltanto le rotazionali. quindi abbiamo la rotazionale relativa all'induttanza di rotore, dopodiché iniziamo a mettere quello che troviamo sull'asse diretto e sull'asse diretto troviamo la R I con D e poi troviamo la meno P omega R e le Q I con Q che va nell'altra direzione. Ok, questo dà origine alle due componenti Vd e Vq che sommate insieme come numeri compressi danno origine alla tensione V che è questa qui. queste componenti che abbiamo visto diciamo come numeri reali e numeri immaginari le possiamo anche considerare come dei vettori alcuni hanno soltanto la parte reale altri hanno soltanto la parte immaginare mentre lui è l'unico che ha sia la parte reale che la parte immaginare. Se li distribuiamo un poco meglio possiamo ottenere una rappresentazione anche un poco più vicina a quella della macchina Polinisci cioè abbiamo asse quadratura I con Q I con D la somma è I questo vettore R I con Q ci vado a cambiare l'ordine degli addendi tanto diciamo sono numeri complessi quindi cambiando l'ordine degli addendi non cambia niente la somma non cambia R I con D più R I con Q saranno un vettore R I con D è un altro R I con Q la loro somma la loro somma è un vettore R per I ok? sono le due componenti poi ho la rotazionale di asse diretto che posso scrivere anche in un'altra maniera se io ricordo che al sincronismo P omega R è uguale ad omega qua posso scrivere omega L con D con D cioè X con D per I con D ok? quindi X con D per I con D e dall'altro lato ho meno X con Q per I con Q e qua abbiamo la B questa è con 0 l'angolo tra i due vettori positivo in senso anti-orario e positivo se V precede da E con 0 è delta è l'angolo di carico delta che abbiamo già visto è l'analogo di quello che abbiamo già visto per la macchina sincrona attraverso allora dove sta la differenza perché diciamo fino a questo punto qua del modello è tutto uguale anche la V c'è delta la differenza dove sta? la differenza sta nel fatto che in questa macchina le due componenti di corrente di con D e di con Q le due forze magnetomotrici o meglio la forza magnetomotrici I non agisce alla stessa maniera sui due assi diretto e quadratura ma si scompone in due componenti di forza magnetomotrici ciascuna delle quali agisce su un percorso a riduttanza diversa ok? cioè ciascuna delle quali ciascuna delle due componenti agisce su un percorso a riduttanza diversa e da luogo quindi a delle cadute sulla reattanza sincrona che non sono uguali in tutte le direzioni ma in una direzione da un luogo a una certa caduta con un certo valore di riduttanza perché si applica su un certo valore di riduttanza in un'altra direzione da luogo a un altro tipo di caduta induttiva perché si applica su un altro valore di riduttanza quindi devo prima scomporre la corrente nelle due componenti e queste due componenti danno cadute diverse nelle due direzioni danno dei flussi diversi e quindi danno anche delle cadute reattive diverse nelle due direzioni bene questo è il diagramma fasoriale che si presenta molto simile a quello della macchina a traferro costante ma con una sostanziale differenza cioè che le forze metomotrici di asse diretti e di asse quadratura agiscono su percorsi a riduttanza differente danno luogo quindi a flussi diversi e flussi diversi mi danno luogo a caduta e anche diversi ok significa posso avere una corrente molto alta in un senso ma se cade su un percorso a riduttanza elevata in questo verso x con d la sua caduta relativa può essere bassa perché l'induttanza x con d è più bassa dell'altra ok quindi conta anche come gliela sto somministrando bene ok questo per quanto riguarda il diagramma fasoriale e il diagramma fasoriale è diciamo questo che vedete scritto così molto spesso sui testi lo trovate scritto immaginando che le componenti di asse diretta e di asse di temperatura siano altrettanti vettori cioè nei testi quando io scrivo la i io l'ho scritta come i con d più j i con q nei testi la trovate scritta anche come i con d più i con v ok dicendo che questo è un vettore è un fasore che ha soltanto parte reale e questo qua è un fasore che ha soltanto parte immaginare se la scrivo così diciamo l'equazione mi risulta la seguente v è uguale ad r per i tanto li mosso sommare insieme più j x con q con q i con q più più j x con d i con d più e con d ok la potete trovare scritta anche in questa formula ma è semplicemente un'operazione formale che deriva dall'aver incorporato i fasori in questa formula a questo punto per completezza il diagramma fasoreale diciamo si scrive nella stessa maniera solo che qui mettono scritto j x d per il d e j x q e con il segno però di fasore non sto più diciamo guardando alle componenti sull'asse dirette e sull'asse immaginario ma le sto vedendo come dei fasori in qualche modo il j dentro il fasore in va bene? ora cosa ci resta da fare a questo punto? questa equazione della coppia la voglio scrivere in termini di tensione impressa ok? fino ad ora questa macchina perché questa macchina normalmente si tratta così normalmente è una macchina a corrente impressa e quindi diciamo la coppia così come avete visto nella lezione precedente la coppia si adopera in questa forma qui scritta con le correnti perché avrò qualche cosa che sarà un convertitore che mi va a imprimere direttamente le correnti necessarie alla macchina per produrre quel valore di coppia però per la macchina sintrona a polilici abbiamo già scritto in termini di tensione impressa scriviamocela anche qui in termini di tensione impressa allora quello che si fa tradizionalmente è trascuro i termini resistivi e utilizzo le relazioni grafiche sen delta e v sen delta e v cos delta per andarmi a scrivere la coppia non ve lo voglio fare così l'abbiamo già fatta così per quanto riguarda la macchina polilici partendo dal diagramma fasoriale trovandoci delle relazioni con v sen delta e v coseno di delta v sen delta era j era x con s per i con s se vi ricordate quindi a x con s per i con s abbiamo sostituito v sen delta non ve lo voglio fare così perché vi voglio dimostrare che se io agisco con le equazioni trovo poi alla fine la stessa cosa e quindi ce la facciamo a partire dalle equazioni quindi questa volta facciamo un altro un altro approccio così diciamo vi è chiaro che o agiamo sui fasori in maniera grafica che è un po' più immediato oppure agiamo in maniera analitica stiamo facendo la stessa cosa quindi ve la voglio presentare anche in maniera in maniera in maniera allora partiamo l'equazione della coppia quindi t è uguale a 3p per l con d meno l con q per i con d i con q più i con e per i con q e da queste relazioni qua ci tagliamo invece i valori di con d e ci ritraiamo supponendo che le cadute resistive siano talmente basse che le possa trascurare quindi i con q sarà uguale meno v con d fratto abbiamo chiamato x con q meno v con d diviso x con q e i con q è uguale anzi diciamo mettiamoci un cicca per ricordarci che abbiamo ci siamo dimenticati per strada della caduta resistiva in realtà non ce la siamo dimenticati l'abbiamo di proposito v con q meno e con 0 diviso x con x con d bene a questo punto facciamo i con d e i con q è uguale v con d v con q fratto x con d x con q meno e con 0 v con d fratto x con d con q x con q va bene a questo punto sostituisco mi ricordo prima di tutto che allora guardo un attimo il diagramma e trovo cioè anche senza guardare il diagramma trovo che v è scomponibile v con d più j v con q e se voglio v con q è facile perché è v per il coseno di delta bene mentre v con d attenzione al segno v con d sta sull'asse reale dall'altro lato quindi è uguale a meno v per il seno di delta sostituisco qui dentro e mi trovo che i con q è uguale a v con q v coseno di delta meno e con 0 fratto x con q e i con d con q è uguale a v d v q quindi v al quadrato per sen delta cosen delta ma sen delta cosen delta lo posso scrivere anche con un mezzo seno di due delta fratto fratto x di xq meno e con 0 per v con d seno di delta più e con 0 v seno di delta fratto x con d x con q queste espressioni le vado a mettere qui dentro nel momento della coppia elettromagnetica 3 qui bene faccio comparire anche un omega in maniera tale che questi ld lq me li me li possa trasformare in reattanze quindi moltiplico e divido per omega rimane xd meno xq all'interno per i con d i con q più f con e per omega e proprio e con 0 per i con q ok quindi 3p fratto omega per xd meno x con q per i con d per i con q quindi per parenzi quadri x con d meno x con q diviso 2 v al quadrato seno di 2 delta fratto xd xq più e con 0 per i con q e per i con q per i con q per i con q e abbiamo fatto questo primo termine qui abbiamo sostituito il prodotto di I con D e I con Q all'interno di questo, ci resta da scrivere E con 0 per I con Q più E con 0 per V con Q, quindi V coseno delta, tratto x con D meno E con 0 per I con Q, sì c'è un E con 0 al quadrato, scusatemi, dunque c'è un E con 0 per I con Q, sì c'è un E con 0 al quadrato, diviso x con D, x con D. Ok, scusatemi sono fatto trarre l'inganno dal fatto che questa D sembrava una Q, questa per I con D, a questo punto questi due termini qui non ci sono e devo scrivere semplicemente E con 0 per I con Q, quindi E con 0 per V con D, ma V con D è uguale a meno V secondo di delta, fratto x con Q, uguale a meno V con Q, quindi E con Q, quindi E con Q, quindi l'equazione della coppia è uguale, a questo punto abbiamo 3B fratto ω per questa quantità qui, facciamoci il rapporto con x di xQ, ma rimane un mezzo di 1 fratto xQ meno 1 su xD per V al quadrato seno di 2 delta, più, facciamoci questo prodotto giusto per chiarezza, E con 0 V sen delta fratto xQ meno E con 0 V sen delta fratto xQ meno E con 0 V sen delta fratto xQs meno E con 0 V sen delta fratto xQt con Q e c'è anche un segno che abbiamo sbagliato va bene probabilmente no dunque a questo punto questo termine qui scusate questo termine qui va via con questo termine qui ok sono uguali e ci rimane a parte questo segno che adesso chiariremo è con 0 V se in delta fratto X con D più più un mezzo per 1 su X con D meno 1 1 su X con D per un quadrato per il seno di due delta ok ok scusate mi c'era un errore di segno nel prodotto in DQ qua c'è un segno di meno e quindi qua ci va un meno e qua ci va un più significa dire che qui qua ci va un più e qua ci va un meno significa dire che qui ci va un più ok perché questa parte qui va via con questo termine ok e adesso ci troviamo tutti e due i termini nell'espressione del momento della copertura magnetica entrambi positivi allora questo significa che allora ci siamo trovati un'espressione del momento della copertura di prova magnetica che è sostanzialmente analoga a quella che conoscevamo già per la macchina a traferro costante a poli di sci perché perché sostanzialmente questa parte qua ve la ricordate è un termine è un andendo che rappresenta proprio la coppia data dall'interazione del campo di motore con il campo di statore e passa per la reattanza questa volta di assi diretto mentre invece nella macchina a poli di sci c'era soltanto questo termine e qui sotto avevamo la reattanza sincrona quindi sostanzialmente questo che ci dice ci dice che tutte le cose che avevamo trovato oscillazioni i pentolari e tutte le analisi che avevamo fatto sulla coppia quando abbiamo usato le equazioni di coppia le possiamo riportare pari vari anche sulla macchina a polisalimento c'è una cosa in più c'è un pezzo di coppia in più questo questa parte di coppia notate è presente anche quando non è presente l'eccitazione ok quando levo i magneti quando levo la corrente di eccitazione quindi c'è coppia in queste macchine queste macchine generano coppie anche quando non è presente l'eccitazione ok sfruttando semplicemente la salienza la differenza di reattanza di asse diretta e di asse quadrativa va bene quindi ci siamo scritti anche il modello in termini di valori a regime stazionario e sinusoidale e ci siamo trovati anche il momento della coppia elettromagnetica e abbiamo fatto qualche considerazione allora la cosa importante e interessante è che questo secondo termine non va con il seno dell'angolo delta ma con il seno dell'angolo 2 delta quindi se volessimo rappresentare il momento della coppia elettromagnetica in funzione dell'angolo delta non avremmo semplicemente la curva che abbiamo sfruttato ampiamente per la macchina o le misci ma abbiamo che a questa quantità dobbiamo sovrapporre anche un andamento a seguito dell'angolo l'andamento risultante della coppia, questo però in alimentazione a tensione impressa. Ripuliamo la lavagna, ultimo argomento che andrà ad introdurre l'esercitazione che faremo prossimamente. Vediamo un attimo come ricavare i parametri della macchina sincrona. Si possono presentare diversi casi. Rescriviamoci un secondo il modello e ce lo riscriviamo in due casi. Facciamo un caso in cui la velocità si annulla, cioè un caso in cui noi vogliamo andarci a misurare i parametri di questa macchina, farlo con la macchina in movimento molto spesso potrebbe essere un po' pesante. Scriviamoci un attimo il modello. Io vorrei trovare un modo per ricavarmi i parametri, cioè le altanze di retta, le altanze di asse e quadratura, in maniera piuttosto semplificata. Ok, allora, ho v con d, v con q, lo facciamo a partire dall'equazione di statore, v con d è uguale ad n, i con d, n, i con q, più d, dunque, l con d, d, i con d, su d qui, più l con d, più l con q, d, i con d, meno pi omega con r, l con q, i con q, più i omega con r, l con d, i con d, più, diciamo, e con zero. Ok? Allora, scriviamoci così, il modello così è complesso, però io adesso vorrei trovare delle soluzioni semplificate per andarmi poi a ricercare il valore dei parametri della macchina. Ok, un primo metodo è lavorare su questo modello e ci sono diversi metodi, ci sono tantissimi. ve ne do due semplici che poi, diciamo, do per prima il lavoratore. Il primo metodo è andare a lavorare con velocità nulla. Ok? Quindi, quando omega con r è uguale a zero, il rotore è bloccato, al rotore è bloccato, mi vengono via questi termini rotazionali, più la e con zero, che è messa di per sé un termine rotazionale. Quindi, cosa rimane? Rimane v con d circa pari a l con d, e v con q circa pari, anzi, facciamo così, facciamo proprio pari a, no? Ci mettiamo il termine resistivo questa volta. v con d e v con q è uguale a l con q d i con q su d t più f per i con q. Ok? semplice e semplice. A questo punto cosa facciamo? Blocchiamo il rotore nella, diciamo, in maniera tale che l'asse del rotore coincida con l'asse della prima fase di statore. Ok? Quindi facciamo in modo che se abbiamo tre fasi di statore, ci blocchiamo il rotore in maniera tale che l'asse diretto vada a coincidere con l'asse della prima fase di statore. Come facciamo per fare così? Beh, possiamo fare una cosa piuttosto semplice. Colleghiamo le tre fasi di statore, immaginiamo di avere uno statore a stella, ma se lo avessimo al triangolo sarebbe la stessa cosa. Le colleghiamo a una sorgente di alimentazione. colleghiamo le due in parallelo e le facciamo percorrere dalla stessa corrente. Visto che la corrente è la stessa, si dividerà i mezzi e i mezzi, visto che i parametri delle tre fasi sono gli stessi. Ora, a questo punto, quale sarà il vettore di spazio della corrente di statore? i è uguale ai due terzi di i con 1 più i con 2 per elevato alla j 2 pi greco terzi, più i con 3 per elevato alla j 4 pi greco terzi. Allora, in ogni istante noi avremo che la corrente nella fase 1 sarà i con 1, la corrente nella fase 2 e nella fase 3 saranno uguali ad i con 1 in modulo, ma saranno opposte rispetto alla i con 1, quindi meno i con 1 mezzi per elevato alla j 2 pi greco terzi, meno i con 1 mezzi per elevato alla j 4 pi greco terzi. O le parti immaginari di 2 pi greco terzi di 4 pi greco terzi si eliminano a vicenda, si evitano a vicenda perché sono uguali ad opposte e rimane uguale ai due terzi per i tre mezzi di con 1, ricordando i tre mezzi di con 1, perché qua abbiamo meno un mezzo, qui abbiamo meno un mezzo, quindi abbiamo complessivamente in parentesi i due terzi e i tre mezzi di con 1, cioè i con 1. ossia il vettore di spazio è un vettore fisso nello spazio e disposto sull'asse reale, cioè sull'asse diretto, cioè sull'asse della prima fase e vale proprio il valore dell'asse di con 1, ok? A questo punto abbiamo varie considerazioni da fare. 1. Come fare ad allineare l'asse di? Ricordatevi che la coppia dipende da che cosa? Dal figonè, dal modulo della corrente I, per il seno dell'angolo compreso, per I con Q, cioè per il seno dell'angolo compreso. La corrente I, l'abbiamo visto una delle prime lezioni. Significa dire che in questa condizione qua, in cui l'asse diretto è allineato con l'asse del vettore di spazio della corrente, il seno dell'angolo gamma, dell'angolo tra la corrente e la lezione e la effettiva è 0, ok? In questa condizione la coppia è 0. In tutte le altre condizioni la coppia non è 0, e non solo, ma è massima quando l'asse diretto sta a 90 gradi ed è minima quando l'asse diretto sta a 90 gradi, quindi significa dire che il rotore tenderà ad allinearsi in questa condizione e troverà pace, cioè troverà il colpio a 0 soltanto quando si è allineato. Se, diciamo, prescindiamo dagli attriti che ci possono essere, e se le abbiamo il carico principalmente, basta che noi alimentiamo in questa maniera la macchina e il rotore si allinea in questa posizione. Ok? Quindi se alimentiamo così la macchina, siamo sicuri che la macchina si sarà allineata in questa posizione qua. Bene? Ok, a questo punto che facciamo? A questo punto sfruttiamo soltanto la prima delle equazioni, perché scritta in termini di vettori di spazio relativi a quella configurazione di alimentazione, questa equazione di statore diventa V di T è uguale ad R di T più L con D di T su DT. D'accordo? Perché i fasori stanno continuati su fastire. A questo punto, con queste equazioni qua, ci possiamo fare una bellissima misura volta amperometrica alle diverse correnti pure, così abbiamo diversi valori di incambio, e ci andiamo a calcolare la inultanza di assi di V. Bene? Ho il problema, va bene, diciamo, se c'è un magnete che non possiamo togliere, le situazioni non sono staccate, il magnete che non possiamo togliere, quindi non ci dà problemi di E con 0, perché la velocità è nulla, non c'è rotazione, ma ci sposta il punto di lavoro, perché ci dà un offset sul punto di lavoro, per cui, diciamo, sul magnete dobbiamo starci un attimo attenti. Dobbiamo fare le misure con l'asse diretto da un lato e dall'altro e fare la media in maniera tale che il problema del punto di lavoro non ci sia. Ok? Dopodiché che faccio? Devo fare la stessa cosa sfruttando l'altra equazione, quindi io devo mettere la corrente sull'asse quadratura. Questo è un po' più complicato, dice, come faccio? Bene, non faccio nient'altro che dovrei spostare il rotore, ok? E mettermi il rotore a 90 gradi quando la coppia però è massima, quindi non mi viene tanto naturale questa operazione. Allora che faccio? Blocco il rotore e sposto la corrente. Se io blocco il rotore, lo lascio così, allineato qui, e poi metto i vettori di spazio sull'asse quadratura. Ok? Come faccio? Collego, posso bloccare il rotore, stacco il collegamento, ok? Non alimento più da qui, ma alimento... Se alimento di qui, la corrente è questa, qua entra e dall'altro lato esce, avremo che questa corrente qui nella prima fase non c'è e quindi avrò che la corrente I, il vettore di spazio della corrente I sarà molto semplicemente i due terzi di I con 2 per E elevato a J di 2 pi grego terzi meno I con 2 per E elevato a J di 4 pi grego terzi. O a questo punto le parti reali si editano perché sono meno mezzo e meno mezzo e vanno via, mentre le parti immaginarie di questi numeri compressi non si editano ma si sommano e quindi rimane radical 3 mezzi per I con 2 più radical 3 dunque J J radical 3 mezzi per I con 2. Queste sono le parti immaginarie considerando anche il segno meno. Quindi rimane 2 e 2 vanno via radical 3 rimane 2 radical 3 terzi per J per I con 2 di T uguale J per 2 fratto radical 3 per I con 2 di T. ok abbiamo ottenuto che adesso la la corrente il vettore di spazio della corrente è tutto quanto sull'asse quadratura ok abbiamo alimentato in maniera tale che il vettore di spazio della corrente sia giaccia perfettamente sull'asse quadratura a questo punto ci possiamo fare una misura volta perometrica con gli opportuni fattori di scala sull'asse sfruttando soltanto le equazioni di asse quadratura e ci troviamo L con 2 bene per quanto riguarda l'econ 0 dobbiamo forza mettere in rotazione alla macchina mettere in rotazione a una certa velocità e ci riferiamo l'econ 0 e ci siamo ricavati i 3 quadrati questa volta ci vogliono due prove a rotore bloccato ricordate che facevamo sulla macchina a polilisci una prova a rotore bloccato e una prova a vuoto qua dobbiamo fare una prova a vuoto e due prove a rotore bloccato in due posizioni diverse bene ok ci siete? altra prova che si può fare è una prova che si fa soltanto nelle macchine in cui io questa non la posso effettuare cioè prova per macchine amperiane soltanto per macchine amperiane per verificare i valori i valori di riduttanza ok i due valori di riduttanza di asse diretto e di asse quadratura oh sto cancellando quello che mi sa che mi sa Allora, rispiamo di elevazione, V con B, V con Q, a R di B, N di BQ, più L di B, V con B su DB, più L di B, V con B su DB, ok, allora, riprendiamo il modello osservare questo modello ci suggerisce anche come fare se io voglio invece ricavare le L con D e le L con Q da una prova a regime ok? abbiamo visto che a regime stazionato sinusoidale questi termini, queste cadute non ci sono e quindi posso dire che a regime stazionato sinusoidale che Q con D è circa pari a R per I con D meno P omega con R L con Q per I con Q e Q con Q è circa pari a R con Q più P omega con R L con D I con D E con 0 non lo consideriamo perché in questo momento abbiamo staccato l'eccitazione amperiale ok, a questo punto trascuriamo i due termini resistivi e otteniamo che V con D è circa pari a meno P omega con R L con D per I con D per I con D questa scrittura del modello in questo modo ci suggerisce anche la prova per una prova semplice per trovare i valori di realtàzza di asse diretta e di realtàzza di asse quadratura questa prova si effettua a una velocità prossima ma non uguale a quella sincrona quindi omega con R è circa pari alla velocità di sincronismo omega fratto P ma non è la stessa per esempio potrebbe essere fatta trascinando la macchina sincrona con un odore asincrono in maniera tale da arrivare a una velocità di scorrimento tale che S è uguale a omega fratto P meno omega fratto P ma non arrivare alla velocità di sincronismo questa prova fatta in queste condizioni si chiama sleep test cioè test di scorrimento perché i due campi il campo di struttura è scuro rispetto al odore quindi la faccio a una velocità non propriamente per il sincronismo nel senso che a questo punto avrò un motore primo che porta l'asse a una velocità omega con R che non è quella di sincronismo e la macchina sincrona che per esempio è un generatore sincrono un motore sincrono quello che volete voi macchina sincrona è collegata alla rete trifase a pulsazione omega ok? bene, quindi praticamente non sono proprio uguali ma sono vicini alle due velocità cosa succede? allora scriviamoci da questa iniziamo a dire che la tensione è facile perché nel riferimento rotorico avremo che la tensione sarà uguale noi sappiamo quali sono VD e VQ perché V è uguale nei riferimenti di rotore o meglio scriviamoci prima nei riferimenti di statore poi ce lo riportiamo nei riferimenti di rotore V nei riferimenti di statore è uguale a che cosa? è uguale a V con M non cerchiamo il radical V e V efficaci mettiamo ad aggiungere il termine di V con M e ci portiamo un pezzo in uno V con M per E elevato alla J omega T ok? è ancorato al campo dello statore è ancorato alla rete questo che significa? significa che se io lo voglio scrivere nel sistema di riferimento dell'olore dovrei scrivere V nel sistema di riferimento di statore per E elevato alla meno J omega con R P omega con R T ok? lo sto riportando nel sistema di riferimento di rotore come siamo abituati a fare G di T ok? come abbiamo già fatto vai e vai questo che significa? che nel sistema di riferimento di rotore io vedrò un V con M per E elevato alla J omega meno P omega con R T ossia V con M per E elevato alla J S omega ma questo non ci dice niente di nuovo cioè ci dice che se alimentiamo lo statore a frequenza omega abbiamo un campo questo campo viene visto dal motore a frequenza S omega l'avete già visto un milione di volte quando avete parlato della macchina a S e questo è V con R ok? a questo punto che cosa ve ne faccio? mi scrivo queste due queste due equazioni allora I con Q è uguale diciamo circa uguale a V con D diviso col segno meno P omega con R L con Q I con D è circa uguale a V con Q diviso P omega con R L con D ok? a questo punto mi vado a scrivere V nelle due componenti V nel riferimento notorico è uguale V con D più J V con Q dove V con D è uguale a V con M per il coseno di S omega e V con Q è uguale a V con M per il seno di S omega fin qui diciamo tutto tranquillo ok? e quindi mi ricavo I con Q e I con D Allora I con Q e I con D Allora I con Q è uguale a meno V con D V con M coseno di S omega fratto P omega con R L con Q e I con D è uguale V con M per il seno di S omega diviso P omega con R L con D bene? ok che cosa voglio sapere io? voglio fare una prova semplice cioè voglio andare a misurare con un amperometro la corrente che passa nelle fasi ok? nelle tre fasi di statura so la corrente che passa nelle tre fasi di statura ma la so in componenti di D e Q cioè la so riferita al riferimento di rotore me la devo riportare nel riferimento di statura come faccio? devo fare il passaggio in verso devo prendere questa corrente devo fare I con D più J I con Q che è la corrente nel riferimento di Q cioè nel riferimento motorico e la devo moltiplicare per elevata alla J omega T e me la sono riportata nel riferimento statura ci siete? ok questa è la corrente I che abbiamo scritto nel riferimento motorico e ce la possiamo riportare nel riferimento statura uguale abbiamo detto quindi I con D per elevata alla J omega T facciamo così I con D facciamo così I con D più J I con Q per coseno di omega T più J seno di omega T uguale la parte reale sarà I con D per il coseno di omega T meno I con Q per il seno di omega T più J per I con Q coseno di omega T più I con D per il seno di omega T ci siete? quanti errori? allora a questo punto ci possiamo scrivere I con D allora V con M diviso P o N con R sarà per tutto lo portiamo fuori per seno di S omega per coseno di omega T di D meno M M però deve essere quadrato e anche più omega per l'Era deve essere quadrato credo credo che forse dunque meno I con Q ma c'è un segno meno quindi più coseno di S omega scusate mi sono dimenticato qui sotto sotto al seno di S omega c'è un L di S qua c'è un coseno di S omega diviso di Q per il seno di omega t più J per I con Q quindi meno coseno di S omega coseno di omega t fratto L con Q più I con D seno di omega t più seno di S omega per seno di omega t diviso L di ok vi ricordo sempre che stiamo trovando la propria di stavore riferita con stavore allora ricordandoci le formule se ci ricordiamo di vostra felesi v con M al quadrato diviso vedi se ti fanno qualcosa io con M al quadrato 1 su L con D per seno qua ci va il seno della somma più il seno della differenza quindi seno di di S omega più omega t più il seno della differenza quindi seno di S omega meno omega t più coseno dunque più coseno per il seno sempre la stessa cosa seno di S omega mi sono dimenticato dunque questa qua è un'altra parentesi che si chiude qua ci va un 1 su L Q seno di S omega sempre la stessa cosa più omega t più seno di S omega meno omega t ok probabilmente ci vuole un segno meno da o che parte se ci vuole un segno meno scusatemi allora scusatemi tutto ci vuole il t dove stanno tutti di S omega ok e poi questo segno è invertito perché qua c'è seno di S omega coseno di omega t qua c'è seno di omega t per il coseno di S omega quando vado a fare la differenza da un lato viene S omega meno omega t dall'altro viene omega t meno S omega quindi qua ci sarebbe anche la parte immaginabile ok quindi qua ci sarebbe più J per qualche cosa ok però a me interessa andare a misurare una corrente per esempio la corrente della fase 1 la corrente della fase 1 in funzione del tempo si può ricavare dal vettore di spazio così come i vettori di spazio si ricavano dalle correnti c'è una corrispondenza più univoga tra le correnti e i vettori di spazio quindi posso ricavare la corrente dalla conoscenza del vettore di spazio riferito a quell'elemento di macchina non so se avete tante le formule inverse che dal vettore di spazio fanno risalire alla corrente ma se possiamo considerare omopolare nulla cioè che la somma delle tre correnti è nulla cosa che in una macchina simmetrica si verifica si verifica anche che la corrente i con 1 nella fase 1 la posso calcolare come la parte reale del meggiore di spazio ok quindi tutta la parte immaginaria non mi serve perché l'unica cosa che mi serve è soltanto la parte reale ok quindi i con 1 di t che siamo arrivati alla fine è uguale mettiamo insieme i termini simili a parte diciamo questa quantità che con m al quadrato diviso pi omega con r al quadrato e questo è una costante che dipende dalla velocità che possiamo ritenere costante qui abbiamo due termini in s omega più omega t che possiamo unire insieme e sono 1 su ld più 1 su lq per seno di s omega t più omega t più un altro termine che è 1 su ld meno 1 su lq per il seno di s omega t meno omega t ok ossia se noi alimentiamo dalla rete otterremo una corrente che ha due righe spettrali a due frequenze diverse ok a due frequenze diverse una riga spettrale è proporzionale alla somma degli inversi delle induttanze l'altra riga spettrale è proporzionale alla differenza degli inversi delle induttanze ok vi posso anche mostrare che queste frequenze sono molto molto vicine perché perché s omega t più omega t quanto vale s omega t sarebbe omega fratto p meno omega r ok diviso scusate diviso omega fratto p per omega che è uguale ad omega meno t scusate s omega t ok questo sarebbe omega meno p omega con r d'accordo? se io ci sommo omega t ottengo che s omega t più omega t è uguale a omega meno più omega con r più omega quindi 2 omega meno p omega con r va bene? ma noi abbiamo detto che p omega con r è molto vicino ad omega ok stiamo lavorando con omega con r molto vicino ad omega quindi questa quantità qua è vicina ad omega perché 2 omega meno una quantità che è prossima ad omega ok questo qua è una quantità un po' più grande di omega mentre invece s omega t meno omega t s omega t meno omega t abbiamo detto che s omega t è omega meno p omega con r meno omega t è uguale a p omega con r o meno p omega con r ma questa dal punto di vista della frequenza è anche questa prossima ad omega sono due frequenze due pulsazioni molto simili ok sono molto vicine a cosa da origine due pulsazioni molto vicine che si sommano allora abbiamo due onde sinusoidali nel tempo nel tempo la corrente i sarà data dalla somma di queste due onde sinusoidali a frequenza simile cosa succederà che nel cambiamento di fase nell'evolgersi della soluzione queste due onde si proveranno alle volte in fase che alle volte in controfase quindi certe volte si sommano certe volte si sottraggono e quindi quando si sommano diciamo avrò un valore massimo più grande quando si sottraggono avrò un valore massimo più basso e il risultato sarà un'onda che avrà un impiluppo di questo genere ok questo questo andamento che rileveremo poi all'oscenoscopio si chiama patimento ok è tipico della somma di due onde con frequenza molto prossima l'una rispetto all'altra oh ma che significa significa che quando si sommano che in questo punto qua avrò la somma dei due valori massimi delle ampiezze questo punto qua sarà la differenza dei due valori massimi delle ampiezze ma se le ampiezze sono proporzionali a questi termini qua quindi significa che quando si sommano io ho uno su lb quando si sottraggono ho uno su lq ok in realtà sarebbe ripesso ma va bene così ok quindi ho un valore proporzionale all'indultanza quando si sommano ho un valore proporzionale all'altra indultanza quando si sottraggono significa dire che più è marcato questo comportamento più alta più elevata è la sallinezza cioè la differenza tra le due le ampiezze ok ok ok